ciao carissimi e carissime anche oggi voglio fare sempre sull'amore perché è quello che vi piace di più quindi andiamo un po a mischiare le carte ricordatevi sempre che ci possono essere delle risonanze per la vostra manifestazione se qualcosa vi risuona è perché vi emoziona in qualche modo vi stupisce c'è qualcosa che vi tocca diciamo e quindi l'emozione corrispondente la sente anche l'inconscio che poi è quella che manifesta allora andiamo un po con queste carte che mi piacciono tanto a vedere un po che cosa come vogliono iniziare intanto spero che stiate tutti bene ricordatevi che se volete manifestare qualcosa dovete sentirla risuonare prima dentro di voi senza dubbi senza sentircisi dentro diciamo allora vediamo un po è il chakra del plesso solare il terzo chakra qui è qui di potere personale volontà è anche la sede dell'ego per esempio quando sentite che qualcosa vi picchia diciamo come si dice dentro lo stomaco bisogna sempre chiedersi quando si provano delle emozioni dov'è questa emozione nel cuore o nel plesso perché quando noi riconosciamo se è nel plesso per esempio vuol dire che lì c'è di mezzo l'ego anche in una relazione e proprio in una relazione se invece lo sentiamo proprio come una ferita diciamo come un pugnale nel cuore allora lì è un altro discorso perché entriamo appunto già più nell'emozione nei sentimenti nel cuore appunto quando c'è invece che si sente un pugno nello stomaco di solito vuol dire che noi stiamo resistendo a qualcosa stiamo lottando con qualcosa comunque qui c'è anche la realizzazione dei propri desideri cioè bisogna vedere sia gli aspetti buoni integrati no di questa carta cioè del terzo chakra in questo caso no quindi quando invece noi non sentiamo lotta ma sentiamo che è tutto liscio diciamo che il terzo chakra quindi armonico che ha proprio l'altezza dello stomaco quindi quando sentiamo che lì è tutto in pace significa che siamo vicini vicini alla manifestazione vicini proprio e pronti anche soprattutto pronti per la manifestazione prendiamo un po un'altra allora attenzione che molte persone di voi non sono sempre convinte di nel loro profondo no magari desiderate una persona desiderate un amore ma dentro di voi avete dei dubbi di meritarvelo questo stanno dicendo se invece facciamo l'ipotesi voi sentite che vi meritate questo amore che deve arrivare o che sia un ritorno allora questo chakra diciamo vi sta dicendo che il potere è in voi perché anche il chakra del potere io posso manifestare io mi merito questo amore no e ricordiamoci il mantra io sono amore io sono pace perché perché nel momento in cui noi diciamo questa cosa se sentiamo una contrazione a livello dello stomaco quindi del terzo chakra questo proprio si stabilisce ristabilisce e incomincia a farti sentire il tuo potere personale che naturalmente non è quello dell'ego ma è quello proprio dello spirito del posso io posso allora detto questo quindi molte persone di voi che stanno guardando riusciranno a sentirsi bene in pace e quindi realizzeranno qualcosa allora andiamo un po vedere con queste carte allora molti di voi realizzano sono quindi ciò che hanno nel più profondo cuore quello che avete nel più profondo pensate riflettete cosa c'è nel tuo profondo cosa desideri veramente cosa vuoi veramente prima desidera allora poi fallo diventare un'intenzione io posso manifestarlo non giudico me stesso mi merito questo ma questo deve essere sentito con armonia perché se no entra in gioco l'ego e attenzione quando si fanno i mantra o le affermazioni bisogna sempre sentirsi in uno stato di armonia naturale diciamo allora vediamo qui allora qui accendiamo un po la luce perché mi piaceva farla un po a luce bassa allora qui c'è qualcuno che si pente diciamo di qualche errore dei propri errori e quindi vuole rimediare in modo bello diciamo così no è come se avesse voglia di farti un regalo questa persona si consulta secondo me con qualcuno una persona più giovane che magari è più spontanea come se questa persona la persona per voi diciamo non sappiamo ancora se è un ritorno una persona nuova però qui dicono che questa persona probabilmente appunto questo vi ha detto l'energia no è entrata in un gioco di potere ha bisogno di frequentare una persona del suo stesso sesso è più un consigliere più giovane qui perché ha bisogno di ritrovare quella purezza spontaneità che ultimamente aveva perso perché faceva un po giochi involontari naturalmente perché poi tutto agisce a livello inconscio questa persona faceva un po giochi di potere magari di questioni di principio per esempio no però qui abbiamo una persona che vuole risolvere proprio un problema specifico qui mi dicono allora vediamo è con voi quindi o col femminile per chi magari guarda questa stesa per per qualcuno con cui non è ancora iniziata una relazione diciamo quindi oppure è una persona specifica a cui voi pensate allora questa persona vuole risolvere un problema con voi assolutamente qui si vede che vuole portare proprio l'equilibrio l'equilibrio che gli è mancato allora secondo me queste due carte comunque parlano di una mancanza di equilibrio da entrambi le parti come se voi due foste magari compatibili ma per qualche ragione non vi siete trovati nella direzione magari questa persona si sentiva più chiusa magari resisteva non si lasciava andare i sentimenti invece voi magari per esempio volevate una relazione volevate che so mettere casa ecco quindi c'è stata un'incongruenza fra voi due oppure questa persona ha avuto fino adesso un'incongruenza con il maschile o il femminile insomma quindi siete voi che a seconda se pensate a un uomo o una donna allora vediamo un po' di aggiungerci queste vediamo qui cosa succede allora questa persona comunque si coinvolgerà oppure è già molto coinvolta qui c'è parla proprio del cavaliere di coppe che è come se dicesse adesso bisogna che mi muova che faccia qualcosa allora ha preso atto che c'è una problematica da risolvere dell'equilibrio da portare quindi giochi anche di potere magari questa è una persona che nella sua vita sentimentale ha sempre un po' fatto o ha sempre vissuto insieme al partner o al partner dei giochi di potere quindi significa che magari due persone hanno l'amore si amano però poi non si rendono conto che entrano in facciamo degli esempi pratici non mi hai chiamato e quindi adesso io non ti rispondo oppure non mi hai chiamato e quindi adesso io ti rispondo ma sto sulle mie e così via sono tutti giochi di potere in realtà sono agganci poi dell'ego quindi questa persona ha preso consapevolezza di questo ed è come se dicesse adesso io voglio portare equilibrio e riprendo il mio potere quel potere quello del terzo chakra è proprio il potere che si può trasformare nel potere dell'amore nel potere di volere l'armonia secondo me questo io posso dice io voglio adesso vivere delle relazioni armoniche questo è quello che si auspica questa persona che è in procinto di fare un movimento d'amore qui è una persona che fa un movimento d'amore proprio perché siamo sul cavaliere di coppe sale sul suo cavallo questa persona piena di emozioni perché c'è il simbolo del cancro qui adesso ve lo do semplicemente come simbologia non come segni zodiacali e si trasforma nel re di coppe quindi qui abbiamo una persona che è tolto questo gioco diciamo di potere sale sul suo cavallo e poi arriva davanti al suo trono del re di coppe e ci si siede quindi qui abbiamo una persona che ha la piena responsabilità delle sue emozioni che ha preso coscienza delle sue emozioni quindi un cavaliere che si trasforma in un re di coppe e che prima abbiamo visto che era di denari diciamo quindi una persona che si lascia andare alle emozioni che ha preso coscienza di avere dei sentimenti per voi e si trasforma nella persona amata nella persona che vuole amare che vuole portare equilibrio che dice l'amore vince ogni cosa alla fine vediamo ancora io trovo che questa trasformazione che ha questa persona sia una cosa molto molto bella inizia quasi timidamente percependo e sentendo il sentimento per voi e poi si trasforma nella persona d'amore questa persona si è convinta perché ha preso consapevolezza che vuole amare amarvi in questo caso ma vuole amare soprattutto vuole essere una persona diversa da prima che non cade nei giochi di potere perché ci si cade nei giochi di potere non è che uno dice adesso io non ti rispondo cioè è tutto un gioco tra il conscio e l'inconscio ci vuole molta consapevolezza per andare oltre queste dinamiche di coppia per dire non ti chiamo non mi chiami e quindi mi offendo io faccio sempre degli esempi naturalmente che poi voi riporterete alla vostra realtà e guarda che gioia qui abbiamo una persona che vuole vivere con te l'amore gioioso mi viene da dire questa persona solo a pensarti secondo me è in questa sensazione di gioia d'altronde se questa persona rimane in questa sensazione di gioia e voi mettiamo anche non potete non incontrarvi o non rincontrarvi sappiamo come dicevo all'inizio che quando noi vibriamo sentiamo quella cosa il mondo si piega al nostro volere perché il mondo è uno specchio quindi se io sorrido lo specchio mi sorriderà se io amo se mi amo lo specchio mi amerà quindi questa persona diciamo secondo me è una persona che potrebbe anche stupirvi molto perché viene perché qui è l'inizio di una camminata ma dentro nel cuore è già così è già proprio questo è già proprio non mi viene da dire la parola innamorata è troppo piccola la parola innamorata è già l'amore è l'amore io sono amore è proprio come se questa persona avesse fatto il mantra quindi mi viene da dire voi avete probabilmente fatto il mantra molte di voi io sono amore con questa profondità con questa io sono armonia io sono amore e quindi lo specchio del mondo vi ha trasformato il vostro partner presente o futuro che sia quindi vediamo un po' vediamo un po' riprendo le carte di prima faccio un po' quello che mi arriva questa persona verso di te a questo punto perché è quello che sente questa persona è una grande gioia all'idea proprio di vederti o di pensarti verso di te si sente come il suo mi viene da dire il suo confidente vi ricordate che ho detto questa persona ha bisogno di confidarsi o di parlare o di frequentare magari ha un figlio perché qui dipende ci sono tante età che guardano questi interattivi però ha bisogno proprio di sentirsi come un adolescente per quello che frequenta e si confida con un adolescente che può essere un figlio un amico uno sportivo qualcuno di cui lui ricorda se stesso quella purezza che aveva che poi la vita lo ha indurito quindi qui viene verso di voi cosa pensa anche di voi che vi vuole vivere cosa pensa cosa prova vediamo quello che vogliono dire vuole vivere questo stato di purezza perché questo ragazzo rappresenta appunto anche la purezza vuole vivere questo stato di purezza nell'amore con voi quindi togliere proprio il conflitto o il potere dell'ego che c'era nel terzo chakra per trasformarlo nel io posso e con che forza e con che allora questa è la carta anche dell'iddiglio e della pace e della costruttività il quattro di bastoni quindi questa persona viene con purezza d'animo o comunque in questo momento si sente in questo stato purezza d'animo che vuole vivere un idiglio con voi secondo me qui abbiamo una persona che prima di tutto è stupita di se stesso o di se stessa e vuole stupire anche voi comunque viene col massimo dell'intensità mi viene da dire quindi vediamo un po' questo massimo dell'intensità molti di voi hanno avuto una rottura però qui in questo caso secondo me è una pausa è semplicemente stata una pausa ciò che sembrava una rottura molti di voi invece non incontrano una persona da tempo ma io ho l'idea che chi anche aspetta qualcuno del futuro questa persona ho idea la sensazione che ho idea che questa persona la conosciate già o questa persona conosce voi quindi in ogni modo c'è stata un'apparente pausa perché perché si dovevano risolvere delle questioni ci doveva essere un'integrazione cosa che c'è stata c'è anche molta attrazione ma questa è gioia secondo me questo rappresenta anche un regalo che una persona ti vuole fare un regalo bellissimo mi viene da dire perché regalo bellissimo perché qui abbiamo il desiderio il desiderare l'indiglio cioè come se questa persona dicesse finalmente mi sono liberato o liberata dei miei fardelli e quindi adesso io voglio proprio vivere un idiglio vivere con voi ma adesso voglio anche un po' vedere voi in questa situazione però mi viene da dire qui vuole vivere proprio il massimo così come idea ma è giusto perché noi dobbiamo sempre desiderare il meglio non possiamo accontentarci perché anzi l'universo ci spinge a desiderare sempre il meglio il massimo in tutte le cose perché noi siamo degli imperatori come diceva il maestro Osho tu sei un imperatore tu sei un'imperatrice quindi come dire sentiti incomincia a sentirti che meriti incomincia a sentirti un'imperatrice a me viene che questa persona si sente così in questo momento in senso buono della cosa che vuole proprio farti questo bellissimo regalo che vuole proprio costruire che vuole proprio la pace l'idiglio cioè proprio è convinta questa persona quindi mi viene da dire che qui arriva una persona che può essere anche facilmente ferita in questo stato perché una persona che si protegge è proprio quando lotta come diceva questo il terzo chakra invece una persona che si apre rischia anche che gli arrivino delle pugnalate diciamo però questa persona è pronta a ricevere anche queste eventuali pugnalate è prontissima nel senso che è come se dicesse adesso per questo amore sono pronto a tutto quindi il regalo vero secondo me è bellissimo è proprio questo il donarsi proprio mi viene da dire aprirsi l'aprirsi proprio all'amore sapendo che può essere ferita questa persona sa che può essere ferita sa che può essere rifiutata e nello stesso tempo rischia perché è come se dicesse la vita è così ne vale la pena deve accadere così no vediamo un po' voi vediamo un po' voi questa persona che viene con questo regalo che secondo me è un grande regalo perché è il regalo di come si presenta qui adesso e voi sarete gioiose secondo me non ci credete comunque subito perché qui voi siete stati probabilmente in attesa di questa persona o di questo ritorno oppure di di questa persona che volete vedere incontrare ma secondo me voi vi stupirete molto ma nello stesso tempo è come se diceste voi stessi no mi ero resa conto di tanta bellezza l'avete vista in certi momenti perché se amate sarete innamorate o amate questa persona o amerete questa persona secondo me vi renderete proprio conto che non avevate forse scorto questo aspetto che peraltro questa persona non vi ha mostrato perché c'erano delle dinamiche si presentava in un altro modo voi vi accorgerete proprio che questa persona si è spogliata arriva con la metaforica nudità come una persona che si spoglia da orpelli quindi naturalmente sentirete forti emozioni come rappresentano queste coppe in queste emozioni ci sarà lo stupore il senso di bellezza ma ci starà anche quasi un timore diciamo però direi che dopo questo primo momento voi sarete proprio contente contentissimi cioè è come se diceste a voi stessi finalmente questa vittoria è la vittoria di voi stesse perché avete vinto voi stesse questo è il potere il trionfo avete vinto voi stesse rispetto alla dinamica avete lavorato bene avete lavorato bene con lo specchio vi siete sentite bene unite questo vuol dire vi siete sentite unite col mondo con l'universo vi siete sentite in pace se una persona riesce a tenere queste emozioni belle positive di vera sensazione interiore lo specchio come dicevo il mondo si piega non può non accadere questa è la vera fiducia cioè rimanere sempre senza lamentarsi con la fiducia rimanere sempre in quella prospettiva e sentirla viverla vivere perché voi in fondo volete anche voi questo idilio con questa persona ma fino adesso i fatti non vi hanno dato ragione diciamo però è anche vero che tutto non solo può cambiare in un attimo ma tutto può cambiare se noi veramente ce la mettiamo tutta che poi non deve essere uno sforzo perché se io mi sforzo di essere come perché voi doveste sentirvi come se quindi se io mi sforzo non è come se deve essere naturale è come se una persona dicesse come mi sentirei se lui o lei mi amasse veramente mi dicesse ti ho sempre amata dal primo momento come mi sentirei è lì che dovete rimanere in quella sensazione all'inizio non sarà facile ritrovare la sensazione se avete vissuto dei conflitti con questa persona se questa persona non vi ha dimostrato le cose ma secondo me ce la potete fare quindi vediamo riprendiamo queste vediamo cosa ci vogliono dire ancora ci vogliono dire ancora che appunto è anche una persona che ama che ha imparato ad amare che vuole imparare ad amare ma che poi è comunque l'imperatore qui io vedo l'imperatore in questa stesa come l'uomo di spirito l'uomo spirituale proprio come Osho diceva tu sei un imperatore tu sei un'imperatrice quindi poi in questa luce così come viene presentata anche questa carta quindi secondo me questa persona si presenterà a voi con una luce diversa non tanto con la luce sua ma con un'aura intorno mi viene da dire proprio come rappresentato da questa carta no? quindi voi sentirete proprio e vi dico già se vi risuonano queste parole dovete e volete manifestare sentite adesso questo sentitelo già questo e guardate che cosa poteva accadere poi qui l'idilio si compie qui viene tutto questo è il compimento quindi qui abbiamo la perfezione il dieci di coppe due persone che si trovano alla fine anche voi con i vostri dubbi le vostre dinamiche però riuscirete a vivervi così ecco questa persona molto bella questa immagine con la luce tutta intorno ma anche fra queste due persone mi viene da dire questa persona che ti guarda negli occhi no? mi viene anche da dire questa persona sorride attualmente pensando perché è anche un po' il sogno di questa persona attuale no? un sogno che si è trasformato dal vostro sogno eh? quindi mi raccomando la cosa importante è sempre non avere aspettative sognare sapendo che lo specchio si piegherà ma non pensate al risultato voi dovete semplicemente sognare sapendo che lo fate consapevolmente non fantastico dovete sognare sapendo che lo specchio a un certo punto cambia e quindi la manifestazione avviene io ho la sensazione che lavorerete così bene o lo avete già fatto questo lavoro ecco questa persona che vi guarda negli occhi mi viene già da dire che sorride pensando ai tuoi occhi che viene proprio a stupirti con questo regalo di se stesso è un regalo grande se ci pensate un regalo immenso che cosa può regalare una persona di più che il suo cuore che la sua volontà diciamo di di idilio di pace di andare oltre le dinamiche questa è la cosa più grande non sono poi la costruzione una costruzione di un'identificazione interiore no? la costruzione non è mai una cosa materiale una persona ti può riempire di regali ma poi alla fine potrebbe esserci una sensazione di vuoto sotto qui è proprio il regalo dell'immensità mi viene da dire dell'immensità del divino nel credere nel divino ricordati che Dio è sempre con te ti supporta sempre tu puoi parlare con Dio e Dio ti risponderà sempre bisogna mettersi naturalmente in connessione con un certo tipo di energia allora vediamo un po' che cosa ti dice Uriel non voglio fare una domanda voglio semplicemente che ti dica qualcosa affidati affidati perché appunto come ti dicevo Dio ti parla sempre se tu vuoi basta che tu ti metti in connessione naturalmente dovrei essere in silenzio possibilmente nelle ore notturne quando l'inconscio del collettivo è a riposo quindi qui dice anche questa carta che il presente cambierà le tue scelte ovvero tutto è partito da una lotta di potere dell'ego e tutto è arrivato alla liberazione a questa persona che si libera e si libera e trasforma questo chakra del cuore nel io posso ma questo io posso è l'affidarsi anche al divino io posso vivere felice perché noi siamo nati alla fine noi siamo nati per essere felici non è che siamo nati per soffrire la sofferenza c'è perché non siamo in grado di comprendere questa grande verità no perché un po' ci viene insegnato che la vita è dolore quindi che attraverso il dolore espiamo le nostre colpe che anche delle vite precedenti mettiamocelo un po' tutte così ma non è così noi possiamo partire da noi e essere felici anche quando non lo siamo sembra un paradosso ma non lo è cioè sapendo che il principio ultimo è quello della felicità e che deve essere naturalmente una conquista ma è una conquista che può essere fatta adesso quindi tu ti dice vai avanti senza guardarti indietro ciò significa va bene non era così prima per te non era così con questa persona però questa è una persona che o tu conosci perché ti sorride pensando ai tuoi occhi no oppure una persona a cui tu piaci molto no che vuole questo amore che si presenta aperta come abbiamo visto quindi una persona che è disposta anche ad essere ferita e come dire mi lascio andare completamente qui ti dice anche sii presente adesso vivi nel qui e ora allora quindi affidati se vuoi che questo ti risuoni perché non perderti in quello che non hai che è un po' quello che ho detto adesso quindi se adesso non hai non provare frustrazione perché la frustrazione poi si manifesterà anche all'esterno focalizzati guardate proprio come se Uriel ci dicesse questo è un riassunto di questa stesa focalizzati su quello che potresti ottenere facendolo arrivare solamente al tuo cuore quindi te la spiega ancora più dettagliata cioè tu devi sentirla nel cuore no guardate anche questa immagine che è stata scelta due mani che hanno la magia una sfera magica fra le mani trasparente fatta di luce come dire qui affidati al cielo qui non perderti in quello che non hai perché è quello che non fa manifestare no quindi questa sfera di luce meravigliosa che potete vederla molto bene qui bella rappresentata fa vedere proprio la magia no la magia della la magia la magia della vita allora ancora una carta vediamo perché la vita è una melodia e qui ti fa vedere un uccello che vola no e dalle mani che c'è nella coppa c'è il sole come se fosse nelle tue mani no il sole che si vede dietro no il sole la luce no il divino è proprio nelle tue mani no tu puoi tu puoi dico tu puoi perché la prima carta è proprio io posso no quindi tu puoi quindi l'andare presto suonerà ogni principio poi andrai avanti più attirerai ciò che vuoi va bene più manifesterai perché per me l'attirare è una cosa che sa molto di sforzo no quindi manifesto no sentite la differenza no quando più andrai avanti più manifesterai manifesterai cosa il divino che sei no poi alla fine è come dire credici mi viene da dire anche questa parabola no che di Gesù che dice guarda gli uccelli del cielo loro hanno tutto non hanno mancanze non hanno bisogno non hanno vivono il momento qui e ora no perché Dio gli dà tutto quindi noi abbiamo già tutto noi abbiamo già tutto dobbiamo prendere coscienza di questo se noi guardiamo però è una cosa che va fatta con l'interiorità perché se noi guardiamo gli oggetti esterni cioè il mondo dei fenomeni viene chiamato no da chi studia magari Leopanishad no quindi il mondo del fenomenico no il mondo dei fenomeni tutto ciò che vediamo no sono oggetti cose persone naturalmente tutto ci può mandare in frustrazione questa sensazione invece della luce tu sei luce è una cosa interiore devi chiudere gli occhi per sentirla quindi bene stare in meditazione nelle ore notturne quando come dicevo l'inconscio collettivo a riposo e incominciare proprio ad avere delle conversazioni proprio interiori con con Dio ecco quindi a questo punto io spero che voi accettiate diciamo di buon grado quello che che può veramente manifestarsi quello che può accadere come sempre vi voglio dare dei numeri che possono essere importanti per questa stesa allora qui abbiamo il 34 il 17 il 19 ma possono essere 7 8 e 10 o 1 e andiamo a vedere ancora perché i numeri sono un po' anche una magia dell'universo quindi quando i numeri risuonano quando vedi sempre un numero allora qui abbiamo il 22 che naturalmente il 22 è un numero maestro perché è un archetipo è il numero del maestro che rappresenta anche come virtù la conoscenza e andare anche al di là dell'orgoglio di cui la carta del chakra del potere ne parlava perché c'è anche tanto orgoglio quando si usa il potere e poi questa comunque è una carta di realizzazione piena e il creatore sei tu nel senso in che senso sei il creatore nel senso che la scintilla divina è in te e quindi sei come un creatore no quindi se tu senti questa luce dentro di te no vedi il sole nelle tue mani no è bellissima questa fotografia no quindi senti il sole divino il sole il fuoco divino nelle tue mani non può che esserci la realizzazione poi che belle questa è una stesa magnifica piena di luce davvero qui abbiamo il 7 che era già venuto sì 437 34 437 il saggio che rappresenta anche la meditazione no anche l'elevazione no la sapienza che ti fa andare al di là dei dubbi il giullare è divertiti in tutto questo non sentire pesantezza abbiamo il 3 anche quindi no quindi è anche il sentire il giullare è anche la creatività l'armonia la creatività di vivere no e la creatività di immaginare anche mi viene da dire quindi carissime carissime diciamo che questi numeri poi li potete assemblare come volete però vabbè il 22 come tutti i numeri doppio potrebbe essere anche un numero angelico ma comunque io vi ringrazio dell'ascolto e buona manifestazione a tutti un abbraccio e a presto ciao